buongiorno oggi si inizia quasi all'aria festa tutto questo bellissimo non mi sono truccata e non mi truccherò per oggi perchè poi dopo il pomeriggio devo andare per il tratto molto quindi vado struccata e poi mi sono lì, guardo se mi scommettimi che è scesa come avete lo so detto comunque, è andato online anche il vlog di ieri finalmente adesso stiamo aspettando di andare a casa a pranzo, poi devo correre a casa a portare Marco poi devo riuscire perchè vado con mia mamma appunto a fare il tratamento mi porterei al frattempo c'è il canino che sta mangiando la zanzagliera no vabbè ti è fissato comunque Zac amore è fissato c'è nulla da fare gli fiacciano i zanzaglieri ma ecco non sta tanto bene ovviamente per un po' finisco all'albero il presepe non voglio vabbè d'altronde però anche per quest'anno Natale Jack Natale l'ultimo dell'anno sono andati fra un po' arriveranno fra dieci mesi arriveranno anche le 18 però a un po' l'ultimo dell'anno non a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.